Quindi a questo punto ti vorrei chiedere che cos'è l'invertising? L'invertising in realtà è una riflessione che io ho cominciato a fare, pensa al Festival dell'Economia di Trento, la devo a Luca Cattoi che mi invitò, Luca Cattoi era allora il presidente dei giovani della Confindustria del Trentino e mi invitò a tenere uno speech, un intervento, allora il titolo del Festival dell'Economia di Trento era Identità e crisi globale, quindi si ragionava intorno alla crisi che allora cominciava a farsi sentire in maniera importante, era il 2008, se non mi sbaglio, il 2008 o il 2009, insomma qualche anno fa. Nel preparare questo intervento, nel cercare di portare un contributo creativo, la creatività poteva in qualche modo andare o meno a uscire dalla crisi, riflettere in realtà sull'attitudine e sull'atteggiamento della comunicazione pubblicitaria e quindi preparai questo intervento di un'oretta in cui feci vedere un tipo di pubblicità, intanto partì da una ricerca che mi diede Enrico Finzi di Astra Ricerche che faceva un quadro abbastanza drammatico di quello che era l'affezione delle persone nei confronti della pubblicità, insomma la pubblicità era veramente godeva e gode ancora, però i dati di quella ricerca si riferivano appunto al 2008-2009 e negli ultimi 10 anni l'aveva perso drammaticamente ascendente, carisma, insomma non era più considerata in qualche modo di nessun aiuto nella scelta e nelle decisioni di acquisto, anzi contribuiva ad aumentare i prezzi, anzi spesso mi prende in giro, anzi spesso è volgare, anzi crea falsi bisogni etc., io partendo dai risultati di questa ricerca dissi alle persone che avevo di fronte, ma forse cominciando a cambiare il vocabolario, forse ragionando sulla semantica di questo mestiere, proviamo a pensare di avere di fronte degli interlocutori e non un target, pensare di non avere davanti dei consumatori prima degli user della marca e provai a ragionare proprio sulle parole, quindi l'esperienza diventava un tema da mettere in scena, un certo tipo di experience diventava importante, le idee potevano diventare ideali, questo era un tema che a me era molto caro ed è molto caro visto che lavorino, dove questo tema è abbastanza presente ed è portato avanti con serietà e poi tutta una serie di riflessioni che io ho misi a fattore comune, portando anche degli esempi, feci vedere tutto, ma non campagne che avevo fatto io perché avevo voglia di farmi bene, no no, campagne anche dei colleghi, allora mi ricordo feci vedere la campagna di Fiat 500 che è una campagna che fu una tra le prime campagne che usò la rete in maniera importante per provare a parlare, per lanciare un prodotto in maniera assolutamente inedita, feci vedere la campagna di Intesa San Paolo per fiducia che allora affidò il proprio investimento pubblicitario a Salvatore, una grande operazione quasi di mecenatismo culturale, poi è chiaro che feci vedere anche alcune campagne firmate dall'agenzia in cui lavoro e feci vedere altre attività che si facevano all'estero in quelle ore e che vennero premiate a Cannes semplicemente qualche mese prima, insomma ci si rese conto tutti che insomma adesso per usare un linguaggio no logo che un'altra pubblicità è possibile, che un altro marketing è possibile, adesso non vorrei buttarla in vacca però in realtà abbiamo visto delle belle cose e poi quell'intervento è diventato un articolo sul Sole 24 ore perché Luca De Biase mi diede l'opportunità di raccontare questa cosa e poi da lì inizio una collaborazione anche con Nova24, però in particolare divenne un articolo e mentre scrivevo l'articolo per Nova24 di Luca De Biase e lui mi aveva chiesto 4 mila battute, mentre io scrivevo mi rendevo conto che potevo andare avanti a scrivere 40 mila battute, 50 mila battute, perché gli argomenti c'erano, c'erano tantissimi e allora capì che forse c'era materia, materiale per più di un articolo e così l'invertising divenne anche un saggio e poi divenne un sacco di altre cose perché il tema era molto ed è molto sentito, io ho studenti universitari che studiano in facoltà lontanissime da Milano, scienze della comunicazione eccetera che si laureano su questo tema e che mi chiedono magari di fare da relatore o da correlatore, ma in realtà io ho intercettato semplicemente un sentire comune ed era il sentire di una nuova generazione di creativi che non ci stava più a fare un mestiere che viene considerato come un agente inquinante, perché? Io non ci sto a fare un mestiere su cui deve pesare il discredito delle persone, capisci cosa voglio dire? E questa roba qui è esattamente provare a invertire la rotta e provare anziché spingere fuori i nostri messaggi a chiamare le persone a noi, quando dico noi intendo dire ai messaggi che mettiamo in circolazione e allora si è virale, ma non è virale perché lo scrivo a tavolino che devo fare il virale, il fatto che le belle idee diventano in qualche modo contagiosi, le belle storie diventano contagiosi. Quindi è anche di fatto una risposta a quelle che erano state le questioni etiche sollevate a proposte della pubblicità che menzionavi anche tu prima, il fatto di creare falsi bisogni, di fornire false soluzioni e così via. Io ho imparato a dosare l'uso della parola etica, nel senso che più volte mi è capitato di essere criticato su questo aspetto, in realtà è esattamente così, nel senso che prendendo la parola etica nelle giuste proporzioni, quindi contestualizzandola rispetto all'oggetto di cui stiamo parlando, si tratta di interrogarsi su valori e principi di questo mestiere e quindi portare all'interno di questo mestiere, banalmente nella conoscenza dei nostri messaggi anche dei principi etici. Per dirtela molto banalmente, io ho la direzione creativa di Ogilvy One, di Ogilvy Interactive e faccio fatica a pensare che dai nostri computer e dalle persone con cui lavoro ci possano uscire campagne che allegramente esibiscono tette e culi per vendere che cosa, capisci cosa voglio dire, ho detto proprio una banalità, utilizzare un principio etico vuol dire per esempio non strumentalizzare il corpo della donna per un messaggio promozionale e qui siamo proprio nella cosa più facile del mondo, ma se tu allarghi appena appena questo discorso lo fai, Ogilvy è stata una delle… nel 2007 lanciò il codice etico di coinvolgimento del blogger a livello internazionale, perché i plenari capirono che c'era la possibilità che il coinvolgimento del blogger all'interno di una campagna pubblicitaria poteva replicare gli stessi errori che banalmente tanti uffici stampa hanno fatto nei confronti del giornalismo tradizionale, diventa facile parlare bene, scrivere bene di un prodotto se il blogger viene arruolato esattamente come veniva arruolato il giornalista a cui tu mandavi la cartella stampa con tanto di boccettina di profuma attaccata, hai capito cosa voglio dire? Sì, sì, chiaro. Ecco, il codice etico di coinvolgimento del blogger era un tipo di risposta, di attenzione nei confronti banalmente della rete e quindi se devo coinvolgere il blogger, devo coinvolgerlo in un certo modo le regole di ingaggio devono essere molto chiare, c'è un patto tra l'agenzia di blogger e il brand e questo è un altro esempio di come, io non so se si chiami etica o meno, io se non entro nei meandri della filosofia uso la parola etica in maniera anche così leggera per dire che questo mestiere si può fare anche con un po' più di attenzione, per esempio quando si usano i bambini o quando si rivolgono dei messaggi a un pubblico che magari non ha gli strumenti critici per decodificare i nostri messaggi in maniera chiara e allora sì, allora bisogna stare attenti, se questa sia etica o meno decidilo tu, però sicuramente una soglia di attenzione nuova sì. Ti vorrei chiedere a questo punto qual è la differenza che c'è tra invertising e unmarketing come definito da Gianluca Diego di minimarketing? unmarketing, l'unmarketing è una mezza utopia, nel senso che vivendo da questa parte di mondo faccio fatica a pensare che si possa elidere, l'unmarketing è questo, elide, elide del marketing, l'anna è privativo, quindi ci priviamo del marketing, davvero Gianluca pensa che si possa in qualche modo rinunciare a una parte così importante, a una scienza così importante dell'economia. Io credo che in realtà, e conosco Gianluca personalmente, quindi so di non sbagliare, la sua è una provocazione ragionata e molto vicina all'insing nella misura in cui entrambi abbiamo sentito che un certo modo di parlare alle persone non era più attuale, che era anacronistico molto banalmente, poi dopo un po' vengono a noia anche le definizioni, viene a noia l'invertiding, viene a noia il marketing, il murketing, insomma tutte queste tag che però ci servono, ci servono per far arrivare più velocemente dei concetti dei concetti che magari sono un po' spessi. Il marketing di Gianluca è un'intuizione sana, poi Gianluca è uno che è stato nelle aziende che scrive di marketing da un sacco di tempo, insomma è una delle intelligenze più acute che ci sono in Italia su questi temi. L'importante è che non si faccia del radicalismo chic, nel senso che io credo che ci siano dei dettami rinunciabili e questi sono proprio quelli che guidano questo mestiere e anche quelli del marketing. Purtroppo per fortuna non credo che possiamo lasciarceli dietro tanto facilmente. Il nostro compito è trasformarli. L'invertising prova a fare questo, prova a dire guarda siamo sempre andati da quella parte, adesso proviamo a fare un'inversione a U, che non è facilissimo fare un'inversione a U, bisogna guardare nello specchietto retrovisore, bisogna guardare… insomma la metafora a me sembra abbastanza calzante e proviamo ad andare di là. Non è detto che di là si vada nella giusta direzione, però di qua ci si schianta sicuro, perché ci sono arrivati dei segnali talmente forti che non è possibile continuare in quella direzione e allora proviamo a invertire la rotta, proviamo a muoverci dall'altra parte e vediamo se in quella direzione c'è qualcosa di più interessante da dire e da dare al nostro… a quello che guarda, credimi, è a tutti gli effetti un pubblico. Cioè noi finalmente quando facciamo una campagna pubblicitaria che si basa su queste nuove… abbiamo un audience, non so come dire, non abbiamo più un target da colpire, da centrare, da battere. Insomma sì, le strategie, le tattiche, le conquiste… insomma lo senti come la grammatica, il vocabolario della pubblicità è un vocabolario… è un vocabolario tutto sommato bellicoso, no? Slogan, sai cosa vuol dire slogan? Io lo scoprivo appunto scrivendo Invertiding, non lo sapevo neanche io. L'etimologia di slogan vuol dire urlo di guerra. Non lo trovo abberrante che qualcuno un giorno ha deciso che i titoli della pubblicità dovessero essere codificati come urla di guerra. Poi è chiaro che è arrivato Kevin Roberts con Love, Marx, insomma c'è stata tutta una riflessione che non è certo iniziata con l'invertising. L'invertising si aggiunge. Grazie. 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 Grazie.